musica 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 Andiamo giù con l'ape e con l'azzurra, ma per chi è l'ape? La squadra lavori è arrivata, posizioniamo il mezzo, imbraghiamo l'elemento architettonico e lo appliciamo in secondo piano dove è rigogliosa la vegetazione. Stanno preparando lo spazio per posizionare l'opera, hanno allargato il mobilio, ora procederemo al posizionamento e poi dopo porteremo il fieno perché va anche contestualitario. La squadra lavori è arrivata, posizioniamo il mezzo, imbraghiamo l'elemento architettonico Filippo, Bruno, Enrico e Claudio e questo è il citriolo che mangia Silvano.